1.02 inammissibile, 1.051 inammissibile e così come sono inammissibili 0.52, 1.053, 1.054, 2.1 inammissibile, 2.01 inammissibile, siamo al 3.1 a pagina 38. Favorevole, 3.050 inammissibile e anche lo 0.51 e lo 0.52. Andiamo al 4.50, 5.2, 5.3, 6.1, 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 6.1. Allora, onorevole Cominardi, prego. Chiedo ai colleghi, per piacere, dietro l'onorevole Cominardi, se potete liberare quella parte o smettere comunque di parlare dietro l'onorevole Cominardi. Per favore. Prego. Grazie, Presidente. 1,26. 1,26, Simonetti, favorevole. 1,4, Placido, favorevole. 1,3, Airaudo, favorevole. 1,6, Placido, favorevole. 1,5, Airaudo, favorevole. 1,7, Placido, favorevole. 1,8, Placido, favorevole. 1,13, Placido, favorevole. 1,12, Airaudo, favorevole. 1,25, Simonetti, favorevole. 1,53, Meloni, favorevole. 1,2, Polverini, favorevole. 1,15, Ciprini, favorevole. 1.54 Meloni favorevole, 1.19 Aeraudo favorevole, 1.27 Placido favorevole, 1.1 Polverini favorevole, 1.21 Simonetti favorevole, 1.23 Simonetti favorevole, 1.16 Tripiedi favorevole, 1.11 Placido favorevole, 1.22 Placido favorevole, 1.10 Aeraudo favorevole, 1.9 Aeraudo favorevole, 1.20 Simonetti favorevole, 1.52 Ciprini favorevole, 1.28 ci rimettiamo all'aula, 1.32 Tripiedi favorevole, 1.29 Lombardi favorevole, 1.31 Chimienti favorevole, 3.1 Aeraudo favorevole, 4.50 Aeraudo favorevole, 5.3 Ciprini favorevole, 6.1 Polverini favorevole, 6.50 Castricone, mi rimetto all'aula, 7.1 Cominardi favorevole. La ringrazio. Governo. Parere conforme al relatore di maggioranza. Bene, a questo punto passiamo all'emendamento 1.26 sul quale c'è l'invito al ritiro e il parere contrario della Commissione e del Governo. C'è il parere favorevole del Movimento 5 Stelle, del relatore 5 Stelle e della Lega. Dichiaro aperta la votazione. Grazie a tutti.